Ciao! Oggi vedremo insieme la prima maglia del Paris Saint Germain per la stagione 22-23, quindi anche questa per la prossima stagione, nella versione FAN, quella dedicata ai tifosi. Dopo la maglia semplice del 21-22, la maglia da casa Nike PSG 2022-23 è blu con una striscia centrale bianca circondata da strisce rosse più sottili. La parte posteriore è completamente blu. I loghi della divisa casalinga del Paris Saint Germain 2022-23 sono posizionati centralmente con lo swoosh che apparirà sotto lo stemma del club. Anche se ancora non è ufficiale, l'accordo con l'attuale sponsor probabilmente terminerà nella stagione 21-22, con Qatar Airways che probabilmente ne prenderà il posto. Tutte le nuove maglie sono realizzate con tessuto in poliestere riciclato al 100%, ottenuto dal recupero di bottiglie di plastica. Bella vero? Ero un po' indeciso, ma alla fine nella mia classifica questa prende 4 stelle. secondo me più bella di quella dell'anno scorso, tra l'altro trovate qua in alto la recensione. Fatta molto bene, incredibile, costi quasi 14 dollari, veramente incredibile. Io in questo momento ho stampato ancora lo sponsor vecchio, sapete ancora non è stato deciso, però non mi piaceva con questo buco blu, quindi ho deciso di mettere comunque lo sponsor. Comunque la maglia è fatta, come vi dicevo benissimo, è arrivata in un tempo consono, comunque è arrivata in meno di 4 settimane e di un'ottima qualità, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i riferimenti per poterla acquistare. Ora prima di lasciarvi alla parte in cui vedrete le misure, se il video vi è piaciuto vi prego di mettere un like e di iscrivervi al canale. per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg, quella che vedete è una taglia M della versione FAN.